Agenzia Pratiche Auto di Michele Ritoli 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 1-1, Virtus Castelluccio, Nuova Donia Foggia 4-2, ha riposato lo Stella Azzurra Troia. Guardiamo la classifica di terza categoria. Elce Deliceto 7, Nuova Donia Foggia 4, Juvenilia Carapelle 3. Il prossimo turno il 21 febbraio. San Dagata, Nuova Donia Foggia, Elce Deliceto Carpino, Real Zapponeta Ischitella, Real Foggia, Juvenilia Carapelle, Stella Azzurra Troia, Sporting San Nicandro, Virtus Castelluccio, Stornarella, riposerà il Salvemini in Manfredonia. Passiamo invece alla Pallavolo con i risultati di Open Maschile. San Marco Pallavolo, Poggio Imperiale 3-0, Anspi San Nicandro, Troia 0-3, Virtus Sansevero, San D'Andoni Bovino 3-0. Guardiamo la classifica. Virtus Sansevero 23, Salvemini, Troia 21, Nuvole Lucera 18, San Marco Pallavolo 15, Poggio Imperiale 10, San D'Andoni Bovino 8, Anspi San Nicandro 7, Valle Ballo Lucera 6. Passiamo invece ai risultati di Open Femminile. Ipsar Volley Vieste e Plevole Schitella 0-3, Hotel Gran Baradiso San Giovanni Rotondo e Apricena 1-3, Pietra Mondecorvino, Anspi San Nicandro 3-2. Guardiamo la classifica. Plevole Schitella 30 punti, Apricena 27, Hotel Gran Baradiso San Giovanni Rotondo 24, Ipsar Volley Vieste 21, Valle Pietra Mondecorvino 14, Anspi San Nicandro 9, San Marco Pallavolo 7, Silvertroia 6 e Valle Castelnuovo 0. Per questa settimana era tutto, vi do appuntamento alla settimana prossima. Buon pomeriggio a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.